Ah, ecco la mia nuvoletta tempestosa! Mercoledì, dove sei stata? Altrove. Che cosa hai in testa? Parker la chiama un'esplosione di colori. Sì, carino il cavallo trafitto da una lancia in fronte, ma il colore è... Dice che esalta il mio sorriso. Mercoledì, tu non hai un sorriso. A quanto pare ho un sacco di cose di cui non sai nulla.